Nel fine settimana dedicata ai morti e ai santi, i cimiteri dell'Aquila e frazioni sono frequentati dai cittadini con numeri importanti. Anche nel 2024 il Comune ha messo in campo numerosi sforzi per migliorare la gestione dei servizi cimiteriali grazie all'SM, ma c'è di più, si è investito pure sulla digitalizzazione dei servizi con un'app importante che fornisce molte informazioni utili agli utenti. Anche in questo 2024 l'attenzione verso i cimiteri da parte di questa amministrazione è stata elevatissima. Da un lato infatti stiamo cercando di migliorare quelli che sono i servizi cimiteriali veri e propri grazie alla gestione di SM e all'informatizzazione dei cimiteri. Soltanto qualche giorno fa abbiamo reso disponibile l'applicazione Artilab che permette di localizzare le sepolture e avere numerosi servizi a disposizione. Oltre a questo il settore ambiente ma anche quello di costruzione sta andando avanti con molti lavori. Si cura della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri che sono molto numerosi sul territorio comunale. Ad esempio ci sono 800 mila euro di lavori al cimitero dell'Aquila, altri interventi sono stati fatti e altri si faranno. Dall'altro lato il nostro impegno è rivolto alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri dell'Aquila e delle frazioni. Proprio in questi giorni sono stati autorizzati circa 800 mila euro di lavori straordinari nel cimitero monumentale. I lavori sono previsti a sassa mentre altri sono stati già realizzati nei cimiteri di Filetto, Camarte e delle altre frazioni. Abbiamo realizzato anche nuovi loculari all'Aquila, 160 nuovi loculi, così come nuovi loculari sono stati realizzati nei cimiteri di Paganica e di Santa Rufina di Roio. Grazie a tutti.